Grazie, grazie, grazie. Spassimo, passiamo. Quando mi hanno detto del coronavirus, io non ci credevo. Poi ho cominciato a crederci davvero e ho capito che bisognava fare qualcosa. Qualcosa per evitare il contatto. E così ho capito che c'è la soluzione. E quello che voglio dirvi è che se io resto a casa, se lui resta a casa, e voi restate a casa, eppure vogliate rimanere a casa. Il corona si può annullare. Grazie.